Com'è andato? Adesso stiamo assistendo alla creazione dei due ulivi che sono stati di recente piantati a protezione di questo Tempio. Questo olivo qua è un'analisiare che si chiama olivo leccino perché un pianto che è inestato è un leccio. Che ho visto? L'olivo è molto piccola, ha molta produttività. L'ho visto da tronco. Con tutore dei due ulivi sono stati di calamità di scolastico, sacriuti e tempi, oi vestiti e venditi. Avevolo часitoli. Eius Ren, ergo acte, actape, divi esterni. Eius Ren, ergo acte, 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 divi esterni. Eius Ren, isterni. Eius Ren, ergo acte, divi esterni. Eius Ren, ergo acte, divi esterni. Eius Ren. è un po' che vuole, è un po' che vuole tu puoi provare i slati nel cuoclo qui? Beh, sicchia, sicchia, semplicite. Ma la copertura è di legno, la vedete? No? C'è un'arreggo. Come ho capito? Eh, con la copertura. È in legno. Mi sa che il vero restauro sia stato quello del legno. Restaurato. Ma poi che parecchi anni che l'hanno restaurato. Non era come te, non ci vogliono anni. Mi ricordo quando era stato fatto. Guarda, io l'ultimo volta che ci sono venuto, sarei stato a decina, era già fatto. No, era tutto circondato. Era già fatto. Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Mamma. Non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Salute i saluti. Salute i saluti.